Buonasera a tutti e benvenuti. In questo secondo video sull'intervista a Reidalio parlerò dei consigli che lui dà a ogni singolo investitore in un contesto come quello attuale di inflazione e perdita di valore e potere di acquisto della moneta. Un concetto che così può sembrare banale ma non lo è e che di fatto per molti investitori significa perdere con sicurezza i soldi, il denaro inteso come potere di acquisto reale di beni e servizi. Vedrete così un po' un montaggio perché in realtà era un video unico che durava poi più di 50 minuti e quindi ho tagliato in due parti inserendo questi piccoli pezzi di introduzione. Quindi ecco veniamo alla seconda parte appunto del commento e dell'analisi dei video di Reidalio. Superato diciamo il discorso della Cina poi Reidalio ha fatto anche secondo me un interessantissimo quadro dell'attuale sistema monetario e di come noi investitori quindi consigli molto pratici per noi investitori per poter investire in un contesto attuale che sembra assurdo appunto dei tassi negativi o a zero ma che appunto Reidalio contestualizza nella storia ricordando appunto che era lo stesso contesto degli anni 30, fine anni 30, prime anni 40. Un contesto dove essenzialmente lo Stato ha bisogno di moltissimi soldi per politiche di ridistribuzione della ricchezza, sostegno alle classi più deboli, all'epoca magari era dopo la grande depressione negli Stati Uniti e prima della seconda guerra mondiale, durante la guerra, quindi lo Stato doveva fare dei grossi deficit che a quel punto però non poteva finanziare solo con le tasse perché dovevano andare a stimolare l'economia e quindi di fatto doveva indebitarsi ma questo grande debito che non veniva dall'estero veniva creato diciamo veniva dato alla Federal Reserve cioè alla banca quindi centrale quindi in pratica creando moneta dal nulla e è la stessa cosa che sta avvenendo adesso e lui dice non è un qualcosa così di esplosivo come dicono alcuni, in realtà un debito anche enorme sulla carta è sostenibile fin tanto che il tasso di inflazione è maggiore del tasso di interesse che ha il debito che è la situazione che vediamo oggi cioè magari un'inflazione negli Stati Uniti adesso è stimata poi secondo alcuni è sottostimata al 5.4% magari i titoli di Stato americani prendono molto meno magari arrivano all'1,6% il 2% così anche a scadenze lunghe quindi significa che chi investe chi lascia soldi liquidi o investe in titoli di Stato e in molti titoli obbligazionari non solo a volte ha proprio rendimenti negativi ma anche se li ha positivi sono molto inferiore al tasso di inflazione quindi comunque si perde ricchezza e questo però dal punto di vista dello Stato rende il loro debito sostenibile perché alla fine lo Stato crea moneta comunque quindi non andrà mai in default nel senso del termine letterale cioè che dice non hai soldi per pagare ci sarà sempre in teoria una Federal Reserve che potrà stampare i dollari che servono chiaramente quei dollari varranno meno nel corso del tempo se c'è inflazione quindi comunque magari quei mille dollari di un Treasury americano tra dieci anni magari verranno restituiti mille dollari degli interessi ma in realtà ciò che si compra oggi con mille dollari magari tra dieci anni sarà quello che oggi diciamo si comprava con mille dollari tra dieci anni magari è quello che oggi bastavano 300 dollari adesso faccio un esempio estremo ma insomma se c'è un'inflazione alta e quindi comunque a livello di ricchezza lo Stato diciamo non non va in default ecco questo è il concetto chiaramente in un contesto così noi da investitori dobbiamo ragionare in modo diverso lui dice ecco perché lui dice cash is trash cioè la liquidità è spazzatura e lui diciamo dice non investite in obbligazioni e liquidità che invece mentalmente sono sempre stato formato a pensare che sono investimenti sicuri quindi un portafoglio sano dovrebbe avere molte obbligazioni molta liquidità e poche azioni se non si vuole rischiare e chiaramente la volatilità magari ce n'è meno però a fronte di questo lui dice comunque rimettete dei soldi perdete dei soldi e allora come fare perché gli faceva notare il giornalista anche il mercato azionario è molto salito c'è chi dice che è una bolla e comunque diciamo essendo molto salite le quotazioni può diventare rischioso investirci lui dice certo infatti diventa fondamentale una cosa la cosetta è diversificazione e differenziazione già ne avevamo parlato ma essenzialmente lui ribadisce questo concetto cioè dice è importante siccome questa è una visione fondamentale secondo me fate attenzione io l'ho dovuto risentire più volte sinceramente il video lui dice siccome quella moneta tutta la moneta in circolazione tutti i titoli che che vengono che diciamo i titoli non sono altro che promesse di pagamento future in realtà nel mercato valgono molto di più dei beni e servizi reali che l'economia produce e quindi lui dice in realtà tutte quelle titoli non potranno mai essere realmente convertiti in beni e servizi perché non basterebbero magari ecco mille dollari di un titolo di stato americano sì lo posso vendere con quei soldi compro qualcosa oppure mi viene rimborsato e ci compro mille dollari di cibo ma se in realtà vendessimo tutto quello che sono i titoli dice lui ai prezzi non basterebbero i beni e servizi e quindi un investitore intelligente dovrebbe differenziare diversificare lui dice come asset nel senso tipologia di asset quindi azioni eventualmente lui diceva oro in piccolissima parte lui diceva di possedere addirittura i bitcoin anche se poi lui non esclude che vengono messi fuori legge poi ci andiamo un attimo differenziare quindi come tipologie di beni di investimento come valute e come paesi lui fa questi tre esempi quindi non solo diversificare le azioni dire compro più paesi ma magari anche ecco appunto oro lui diceva beni con un valore intrinseco e questo diventa secondo lui fondamentale per proteggere dal fatto che comunque la moneta perde valore poco ma costantemente quindi lui dice chiaramente a quel punto ecco perché tutti i beni aumentano di valore le azioni immobili i beni rifugio metalli preziosi le commodities eccetera in realtà lui dice non è un effetto che salgono è come se questo faccio un esempio io è come se noi siamo in un treno in corsa e ci sembra noi di stare fermi e ci sembra che tutto il paesaggio che si muove gli alberi le persone in realtà quelli stanno fermi e noi ci muoviamo e è la stessa cosa qui cioè in realtà ci dice ridaglio non è che noi dobbiamo pensare che aumentano le materie prime aumenta il petrolio aumenta l'oro magari aumentano gli immobili soprattutto io ho fatto esempio i beni rifugi collezionabili cose così le figurine no anche le cose le auto usate eccetera oltre che le azioni insomma ma in realtà dice ha solo l'effetto del fatto che si crea molta più moneta di quella che poi è la produzione reale di beni servizi e quindi per definizione questi beni servizi devono costare di più quindi in realtà la moneta che perde valore non quelli che aumentano di valore e questo è il concetto importante che lui fa e di conseguenza ciò deve indirizzare la nostra politica di investimento di comprare più possibile beni diversificati differenziati ecco per valuta per paese e per tipologia di beni lui dice poi è lì la difficoltà e la bravura e lui diceva addirittura per proteggersi così dai rischi estremi così i tail risks cioè in senso i rischi di coda cioè gli eventi straordinari imprevedibili lui dice in realtà basta investire anche una piccola parte del portafoglio per proteggersi da quei rischi perché a quel punto sono talmente imprevedibili che il mercato comunque le protezioni per questi li quota talmente a poco che magari con pochi soldi però ci possiamo proteggere da rischi estremi un po quello che ha fatto lo idalio guarda caso prima nello scoppio la pandemia lui aveva comprato delle diciamo delle opzioni al ripasso insomma aveva comunque coperto il rischio di tutti gli investimenti che aveva mi pare proprio a gennaio febbraio nel 2020 e poi ci fu tutto il disastro tanto che molti ricostruivano dicendo lui sapeva qualcosa informazioni probabilmente il fatto che lui aveva grandi rapporti con la cina vedeva quello che sta succedendo lì non si sa lui all'epoca mi sembra che lessi un articolo in cui diceva no semplicemente non è che immagino un crollo ma mi voglio proteggere perché il mercato è molto alto quelle dopo sono ricostruzioni ognuno la pensa diversamente però per dire che costava poco proteggersi è come se noi facciamo una polizza assicurativa insomma magari facendo gli scongiuri se siamo giovani e tutto magari una polizza sulla vita è bassa cioè a un premio molto basso e magari se malauguratamente succede qualcosa paga moltissimi soldi appunto rispetto al rischio perché probabilità sono basse quindi lui dice anche da investitori dobbiamo eventualmente pensare anche a questi rischi estremi e proteggerci con una piccolissima parte del patrimonio ma farlo perché malauguratamente succedano proteggiamo ecco importante diversificare e differenziare riguardo al bitcoin lui faceva notare come comunque come già era successo negli anni 30 con loro che fu messo diciamo fuori legge nel 33 da roosevelt per gli americani loro lingotti e monete perché appunto che succedeva che c'era anche all'epoca questo meccanismo per cui loro produceva la federal reserve per per fare il new deal e tutto creava molti dollari i rendimenti sui titoli di stato americani insomma su questi dollari erano minori dell'inflazione della quantità di moneta prodotta molti americani l'avevano capito e cosa facevano convertivano i dollari in oro e lui era ingessato perché all'epoca c'era il gold standard ancora e non la quantità d'oro disponibile era poca e quindi lui da lì decise roosevelt o chi insomma lo consigliava di requisire tutto l'oro degli americani pagandolo il rapporto dollari oncia e una volta fatto questo subito cambiò il tasso di cambio del dollari oncia per produrre molti più dollari quindi mi sembra che valeva sui 25 dollari l'oncia lo requisì tutto quindi un oncia d'oro requisita veniva pagata 25 dollari dalla banca dopodiché lui quando diciamo ha preso tutto l'oro lui il governo americano decise di dire adesso un oncia d'oro vale 35 dollari e quindi chiaramente poter creare molta più moneta e inondare il mercato il sistema per poi appunto fare quello stimolo economico che fu il new deal e quindi di fatto ha messo fuori legge un bene rifugio e per costringere le persone di fatto a tenersi i dollari la moneta che perdeva valore perché di fatto doveva togliere valore alle tasche delle persone per poter ridistribuire quella ricchezza il principio è lo stesso nel senso che comunque dice ridaglio oggi sta succedendo la stessa cosa per fare gli stimulus checks tutte quelle quegli aiuti all'economia le imprese la federal reserve in un sistema fiat quindi non c'è più il gold standard crea tutta la moneta che vuole da questi soldi ma significa che il dollari perdono potere di acquisto che gli americani non possono recuperare comprando titoli di stato obbligazioni perché rendimenti sono minori tendenzialmente dell'inflazione questo è il ragionamento e quindi lui dice cosa succede intanto da investitori dovremmo investire in beni tangibili utili con valore intrinseco anche collezionabili però lui dice che comunque beni che non hanno un valore intrinseco come per esempio anche il bitcoin c'è il rischio che passino di moda e quindi magari oggi valgono molto e domani non valgono nulla lui faceva sempre la bolla di tulipani nel seicento nell'olanda del seicento dove c'era questa mania dei tulipani e alcuni bulbi rari valevano addirittura quanto un'intera fattoria c'erano cose da pazzi poi scoppiò la bolla e si persero intere fortune ecco lui dice state attenti a questo invece se investiti in beni tangibili e diciamo il valore intrinseco come materie prime immobili oro ci sarebbe più sicurezza ecco lui non è proprio l'elenca ma insomma dice ecco è importante diversificare riguardo al bitcoin quindi lui dice potrebbe essere messo fuori legge già la cina lo sta facendo lo sta facendo anche l'india e gli stati uniti di fatto stanno molto contrastando il bitcoin con una regolamentazione secondo alcune assurda per cui sì per prevenire delle frodi che ci sono stati soprattutto quando venivano create no queste cripto valute dal nulla cosette aico iniscia il coin offering nel 2017 c'era questa moda e tante erano delle truffe in realtà monete create dal nulla pubblicizzate che non c'era un progetto valore dietro quindi partendo da questi casi veri diciamo la security exchange commission in generale tutti i legislatori americano hanno detto no qui bisogna regolamentare le cripto valute trattandole come delle vere e proprie azioni di società chiaramente questo a volte diventa assurdo perché magari ci sono le cripto valute così anche se voi usate dei siti delle cose quasi per gioco che non valgono nulla e chiaramente sarebbe assurdo che uno deve firmare dei moduli loro devono fare una cosa con le banche una richiesta e uno deve sottoscrivere deve essere un investitore già diventa folle quindi uccidono di fatto il mercato delle cripto valute già lo vediamo chi è interessato come vengono trattate anche anche in italia stanno facendo le nuove leggi segnalazioni chi compra cripto valute c'ha segnalazioni anche insomma tutti quegli ambiti anti riciclaggio eccetera che però di fatto diventano sì un modo magari per contrastare degli abusi ma dall'altro lato c'è anche il rischio che sia soltanto un modo di fatto per soffocarli e l'idario dice questo dice vanno bene come diversificazione ma se dovesse avere troppo successo i governi potrebbero ucciderle proprio perché se magari tante persone dicono compro bitcoin che sono in quantità limitata perché vedo che la moneta ne stanno creando troppa perde valore e l'obiettivo dei governi è questo per rendere i loro debiti sostenibili fare in modo che perda valore la moneta per chi la detiene quindi loro ripagano i loro debiti con una moneta che vale meno e di fatto redistribuiscono la ricchezza così facendo però perdere risparmiatori questa sarebbe la logica quindi se poi questo meccanismo funziona fin tanto che loro stampano moneta creano titoli del debito pubblico e qualcuno se li prende questi titoli se la gente non li vuole non usa più la moneta di stato non usa non compra più titoli del debito pubblico perché vede che l'inflazione è molto minore dei rendimenti magari utilizza l'oro oppure utilizza bitcoin a quel punto gli stati per sopravvivere intervengono e mettono fuori legge quei beni rifugio troppo utilizzati ripeto nel 33 coloro e oggi forse con il bitcoin questo ci dice ridaglio anche questo secondo me è molto interessante in prospettiva poi il giornalista gli diceva sì ma quello è uno stato piccolo e faceva l'esempio appunto lui dell'india della cina e in parte degli stati uniti e poi aggiungo io anche un po l'europa se vediamo anche lì anche qui c'è tutta una non dico contrasto alle criptovalute ma di fatto una regolamentazione tale da chiuderlo in una camicia di forza per cui alla fine forse molti dicono all'home compro le azioni sul mercato che forse il loro vero obiettivo cioè ucciderle senza far credere di ucciderle ecco o comunque incanalarle in un sistema di tassazione di controllo di identificazione delle transazioni di magari commissioni per banche o comunque intermediari tutta una serie di cose finalizzate poi ecco all'interesse dei governi ovviamente anche questo è interessante come prospettiva e come consigli ecco dopo ha trattato anche altri argomenti reidalio ma non vorrei andare troppo lungo secondo me sulla cina e sui investimenti nel quadro attuale sono le cose più importanti anche da investitori fatemi sapere ecco cosa ne pensate anche giù nei commenti o poi inserisco qui sotto in descrizione anche l'intervista i due video delle interviste di reidalio e sono in inglese ma per chi lo capisce può essere utile magari sentirle in in diretta o comunque direttamente voi ecco anche magari se non so io ho fatto così una parafrasi una ricostruzione mia in base a quello che ho sentito ma magari se voi ritenete che sia da interpretare diversamente o magari delle parti che secondo voi sono importanti che non ho trattato nel video insomma ecco se li guardate fatemi sapere apprezzo molto i commenti e anche tra l'altro l'email che qualcuno di voi mi manda alcuni non ancora risposto ma insomma vi ringrazio di cuore del supporto che per me è molto importante veramente anche per darmi motivazione e poi perché io da voi imparo altrettanto non è che io faccio lezioni se vi insegno qualcosa da quello che leggo mi fa piacere sinceramente ma anche per me è uno stimolo a imparare approfondire anche dai molti dei vostri commenti imparo anche da alcune correzioni che magari mi avete fatto su alcuni errori che avevo fatto nella terminologia eccetera insomma vi ringrazio perché ripeto creiamo una comunità non è un così una cosa senso unico quindi ecco fatemi sapere nei commenti e al prossimo video ciao a tutti